ok ragazzi ci siamo documentiamo tutto siamo pronti per la partenza do partire presto ma il porto apre apre più tardi quindi non ce l'abbiamo fatto a partire proprio quando era buio ma intanto salveggiando la barca dovrebbe essere pronta quindi cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di mettere un po la barca in ordine di modo che non cada la roba adesso in navigazione che incontreremo un po di vento questo è il nostro parecchietto che ci permette di farci guardare da voi le posizioni la posizione dove siamo quindi siamo pronti per partire adesso usciamo fuori adesso il pagamento del porto tra poco intanto abbiamo roni qua roni sei pronto siamo nati pronti siamo bardati perché sembra che è bello quindi questa è una delle dei momenti più belli vi faremo vedere tra poco come disormeggiamo quindi quando partiamo e molliamo le cime e ci allontaniamo verso il mare blu dipinto di blu porcherologi bagno tuffetto ora siamo bardi così però dopo ci facciamo le foto mentre wow ci facciamo i tuffi intanto godetevi questa albetta tra un po lasciamo il nostro free juice e ci vediamo dopo ciao ciao